Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Jersey History, oggi parliamo di una maglia anche questa away, sfortunata perché adesso vedrete perché, stiamo parlando della stagione away, cioè della maglia away della stagione 96-97 che è questa qua, è quasi identica alla maglia della stagione prima, quindi quella della vittoria della Champions di Roma cambiano alcune cose, cambiano intanto le stelle sono blu invece che gialle, il bordino giallo qui era legato appunto alle stelle gialle sulla manica, non c'era la manica tutta gialla ma era solo la stella e poi l'altra differenza è il nome qui, la maglia di Del Piero, è ufficiale questa è proprio ufficiale, maglia di Del Piero come vedete in giallo, mentre invece a Roma ci andammo con una patacca bianca che ho scritto il nome in nero, quindi questa è sicuramente l'innovazione di questa maglia, il gol più bello che non ho dubbi è quello di Del Piero in finale di Coppa Campioni, non è servito a portare a casa la Coppa ma secondo me è assolutamente uno dei gol più belli che hanno fatto nella storia del finale di Champions, peccato non aver vinto quella Coppa perché quella squadra secondo me poteva assolutamente vincere eravamo più forti del Borussia, lì sono entrate altre cose psicologiche che purtroppo nel calcio capitano, è da segnalare che comunque quell'anno lì la Juve vinse il campionato Coppa Intercontinentale e Supercoppa Europea che è assolutamente poco